Un percorso a tappe tra creazione, installazione e performance. Una ricerca sperimentata attraverso dispositivi interattivi che coinvolgono lo spettatore nella stessa indagine verso un'analisi del presente e della società. Sono i punti chiave di un progetto portato avanti da una compagnia milanese, la Guinea Pigs, e che sarà presentato da domani, sino a giovedì 31 agosto, in occasione del Festival Castel dei Mondi di Andria. Si chiama In lotta con la realtà e la sua seconda tappa passerà da Trani, dalla suggestiva terrazza di Palazzo Beltrani, che ospiterà la performance dal titolo Il futuro è una trappola, presentato per la prima volta nell'ambito della Kermess teatrale andriese. Guinea Pigs li ho incontrati così casualmente a Milano con la performance che loro avevano svolto per IT Festival e di lì avevo già un'idea di portare ad Andria uno spettacolo legato al futurismo. E quindi ci siamo incrociati, c'è stato subito un'intesa su quello che era il loro progetto che avevano portato lì e quella che era la mia idea di progetto. Tema dell'indagine è il futuro, non un futuro spaventoso prossimo alla catastrofe, ma fatto di visioni e prospettive reali o utopiche. Per questa ricerca la compagnia parte dalla vanguardia artistica del Novecento, prima fra tutto il futurismo. Ho raccolto dei discorsi, dei discorsi sul futuro fatti da personaggi diversi, del mondo dell'arte, c'è Italo Calvino che parla, immaginiamolo, del mondo della politica, del mondo dell'attivismo, del mondo anche delle persone più semplici, i bambini per esempio. Una ragazzina di 12 anni che parla agli adulti della terra davanti all'Assemblea delle Nazioni Unite. Un'installazione site specific coinvolgerà gli spettatori nel processo d'indagine. Dei sensori capteranno dei contributi sonori invitando i partecipanti a lasciare una risposta o un'opinione per scrivere il futuro di un'isola alla deriva, come la nostra società contemporanea. C'è il senso fondante di questo percorso e di questo nostro percorso, che come compagnia in collaborazione con il Laboratorio Anelo 1997 stiamo portando avanti, è un'indagine. Cioè stiamo proponendo delle installazioni interattive che funzionino come, a me piace immaginarle come delle orecchie. È come se ci mettessimo in ascolto. Noi creiamo dei materiali, creiamo una fruizione, un'esperienza all'interno della quale lo spettatore può ascoltare, ma ad un certo punto viene anche interpellato e gli si chiede di, tra virgolette, di lasciare una visione di futuro su quello che per lui può essere un futuro immaginabile, provocatorio, un futuro che può sognare o un futuro del quale può avere paura. È come se prima di dire qualcosa ci ponessimo in una posizione di ascolto e di raccolta di suggestioni materiali.